Si chiude un anno scolastico e ora si prospetta una didattica 2023-2024 con nuovi spostamenti all'orizzonte che comporteranno il definitivo trasloco dell'istituto comprensivo Dante Alighieri dal quartiere di Soria. Questo perché gli studenti della scuola media, attesa da un progetto di demolizione e ricostruzione, già quest'anno avevano dirottato le proprie lezioni negli spazi di Pesaro Studi in Viale Trieste. In quegli stessi spazi da settembre 2023 avranno anche la compagnia di 250 alunni della scuola primaria Mascarucci che si preparano ad un cambio di sede. La Mascarucci, la scuola primaria di Soria, si trasferirà in Viale Trieste andando a formare insieme alla scuola media e alla scuola dell'infanzia Scarabocchio un polo dell'istruzione della formazione proprio in Viale Trieste. La motivazione è che la scuola dopo il terremoto, la Mascarucci in Viale Agostini, è stata visionata dai nostri tecnici durante l'anno scolastico e la situazione legata alla sicurezza delle bambine e dei bambini non ci rassicura per i prossimi anni scolastici, motivo per cui grazie alla dirigente e anche a tutto il personale amministrativo oltre che gli uffici tecnici del comune abbiamo deciso di spostare le 14 classe circa 250 bambini all'interno di Pesaro Studi. Dunque sempre da settembre 2023 arriveranno sul lungomare anche i bambini della scuola dell'infanzia Scarabocchio di Via Rigoni. Saranno destinati allo stabile di Viale Trieste 391 di Rimpettaio a Pesaro Studi. Questo perché nel frattempo partirà anche il progetto di costruzione del polo dell'infanzia di Via Rigoni. Va da sé che con bambini di elementari e media a Pesaro Studi finiscono gli spazi per gli studenti universitari nella sede di Viale Trieste. L'università presente all'interno verrà spostata nel quartiere di Muraglia con cui siamo già in collaborazione, in trattativa per tutti gli spostamenti logistici, augurandoci sempre che la didattica, la formazione, sia sempre a braccetto con la sicurezza dei bambini e delle bambine. Destinazione Muraglia per l'università in avvicinamento al polo di infermieristica e in attesa che il San Domenico, dopo i lavori finanziati dal PNRR, possa accogliere al meglio l'Ateneo, stabilendo una sede definitiva in centro storico.